Il Lecce da quest'ultimo torno di campionato torna a testa bassa con l'umore a terra e soltanto con un punto in tasca. A Fondi è andato in scena un vero e proprio copione degno del miglior film thriller. Con emozioni contrastanti, un finale al cardiopalma. Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi. Torromino sblocca l'incontro dopo solo 25 minuti. Successivamente Pacilli raddoppia tutto, lascia presagire ad una tranquilla domenica di novembre. In realtà, prima dell'intervallo, avviene un improvviso quanto inspiegabile blackout che vede i giallorossi restare inermi, consentendo in qualche incomprensibile modo il padrone di casa di pareggiare i conti. Prima un tiro sporco di squillaccia deviato da Cosenza, poi una punizione per farle dei bombaggi. In appena tre minuti la formazione di padanino getta al vento ogni sforzo e quanto costruito fino a quel momento. Leve in tutto ciò è soltanto l'inizio del proprio show in negativo. Infatti nel secondo tempo il portiere giallorosso, già ammonito, esce in maniera sconsiderata e in netto ritardo, stendendo fuori area un avversario. Il direttore di gara tira fuori il rosso e a quel punto, con tutti e tre i cambi già effettuati, l'assurdo diventa realtà. E il coraggioso Mancosum mette da parte tecnica individuale visione di gioco, si infila i guantoni e si improvvisa estremo difensore. Il sardo nell'inedito impiego tra i pali si rivela anche provvidenziale nel finale, murando con uscita tempestiva il tentativo a rete di D'Agostino. Per fortuna non accade più nulla, anzi nulla più poteva accadere in un'uggiosa domenica pontina, quando si dice piove sul bagnato. Ma è come in questo caso potrebbe rendere meglio l'idea. Questo lecce, ormai evidente, è palesemente sofferente. La brutta coppia dalla grande squadra resasi protagonista in questo convincente avvio di stagione. Il problema potrebbe essere l'atteggiamento. Padalino pare non abbia ancora inculcato a dovere il proprio credo calcistico. Inaccettabile subire una rimonta simile e rischiare di uscire sconfitti avendo in porta un calciatore che solitamente è chiamato a fornire assist ai compagni. Stiamo toccando l'inverosimile, ma l'ospicio è che questo momento buio faccia soltanto parte del percorso iniziato in fin dei conti soltanto quattro mesi fa. Il tempo farà il suo corso, ma nel prossimo turno, con il Cosenza, vista la terza gara consecutiva senza successo, i salentini sono obbligati a riprendere in mano il proprio destino. Intanto nella giornata di domani in programma alle 20.30 in quel di Matera, il secondo turno è l'eliminazione diretta di Coppa Italia-Lega Pro, un'altra chance utile per dare spazio a chi finora non è sceso in campo o a chi domenica prossima sarà costretto a restare fuori. Infatti oltre a Bleve, nella tredicesima giornata di campionato, Padalino dovrà rinunciare al bomber Catturano che, diffidato nella mara domenica di fondi, è stato munito ingenuamente e lascerà nell'attacco giallorosso un buco difficilmente colmabile. Grazie.